Potete farlo molto di più eh, potete farlo eh? Aspetta, 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 ci riproviamo, ok? Canta Mascani, fuori la voce! Ecco, adesso ci piace! Canta Mascani, che bello! Allora, Marcia, che faccio? Volevano fare più un po' di... Sì, vai, che adesso ti raggiungo! Mi raccomando, ascoltate bene l'età. Ascoltate bene! Bene, chi era questa pazza gente? Perciò, perdonate, non si è fatti così purtroppo. Allora, partiamo con l'altro metri, che è Sanremo Tome. Vi raccomando, ascoltate bene tutte le braccia, tutte le braccia. Signore, signori, Sanremo Tome! Vado un applauso! Ciao! Ciao! Il mondo è sempre E' un sogno E' un fantasia che corre E' un sogno 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 Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo, come sapete di chiamare a te, e poi di contare insieme. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo, come sapete di chiamare a te, e poi di contare insieme. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo, come sapete di chiamare a te, e poi di contare insieme. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo. Stai lì, e non sai cosa, c'è un po' di freddo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.